Nel mondo c'è più pace dopo la rivoluzione? È deplorevole che la sua gente abbia sofferto. Ma il cacciatore d'Italia è un lavoro molto difficile. Ci hanno detto del suo arrivo. Ci hanno detto che lei è il migliore nel Parsec. È d'accordo? Mandaloriano, guardi fuori. Sono pronti ad attenderla. È d'accordo? Bene. È d'accordo? È d'accordo? È d'accordo? È d'accordo? È d'accordo? È d'accordo?